Qui, qui adesso Regalino, sia che ce l'ha, racconto. La carica del Pappi Natale 2016 vi auguro buone feste. La carica del Pappi Natale, camminata di presidenza. Racconta fondi per un aiuto concreto ai bimbi della scuola di acqua santa. Vedi più piccoli, voliamo che vi è arrivato Regalino, che la foto con la sua scuola della delle grigioni, se lo allungiamo con il partiero. La carica del Pappi Natale, camminata di presidenza. Per il posto di un uomo del risco del Pappi Natale, che la foto con la sua scuola della scuola della scuola della scuola di acqua santa.